Buongiorno e benvenuti al TG Casa Quarantena. Continua l'invasione dei peli di gatto. Il servizio di maglioscapassi. Divani coperte, cuscini, vestiti, i peli di gatto sono ovunque ormai, nonostante i tentativi continui di rimozione attraverso i soliti acchiappapeli. Guarda che roba, guarda qua. E continuano a riprodursi, come se si riproducessero in continuazione. Li togli e si riformano. Lo vedi? È un mese dalla prima visalia di malattia, il peperoncino non sembra essersi ripreso. Anzi, le condizioni sembrano sia piuttosto gravi. Sentiamo il nostro inviato in diretta da quell'angolo, quello là. Sì, grazie della linea. Come vedete qui la situazione è piuttosto complicata. Il peperoncino ha già cambiato colore, punta gialla, il gambo è completamente marrone. Questo potrebbe significare che l'ortaggio è già morto o comunque in fin di vita. Purtroppo gli è stata data troppa acqua, cioè io gli ho dato troppa acqua nei mesi passati e quindi c'è il pericolo che il peperoncino sia morto affogato. Staremo a vedere, proveremo a salvargli la vita facendo il possibile, cambiandogli la terra. Allora, vediamo, vi tengo aggiornati. A te la linea. Non è stata ancora pulita la lettiera dei gatti, nonostante i cattivi odori che già da ieri hanno invaso l'abitazione. Sentiamo le proteste dei felini. Eh, non si ricompia la sabbietta. Vabbè, andiamo avanti. Ci sono dei foglietti non ben identificati che girano qua e là, sui tavoli, sulle sedie, creano un disordine, sono inutili, non vengono buttati. Sentiamo il servizio di Roberto Masseraccia. Appunti del passato, ricette per la spesa, ghirigori fatti mentre si era al telefono. Eccolo il contenuto di questi pezzi di carta sparsi qua e là per la casa. Ma quando finisce il loro utilizzo andrebbero buttati. E invece rimanendo dove sono, iniziano magicamente un viaggio autonomo per i meandri dell'abitazione. Guarda qua. Cos'è questo? Cos'è? Gianni, Sandro, questo sarà di... Boh, 22 anni fa. E passiamo all'economia. Sta per finire il latte. Il latte è alla frutta, come si suol dire. Ormai da stamattina, dopo la colazione, la confezione è arrivata ai minimi storici con un contenuto di soli 60 millilitri, che di sicuro non basteranno per la colazione di domani. E la domanda è sempre la stessa. Chi lo ricompra? E noi ci sentiamo domani, perché adesso devo andare a comprare il latte e pure la sabbietta dei gatti, sempre se non mi becco il virus.